Musica 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 Ben ritrovati, ben ritrovati ad Assemblea On Air, la trasmissione settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In questa puntata parleremo di una particolare mostra dedicata a Francesco Guccini. Andremo poi ad approfondire il rendiconto 2021 delle aziende sanitarie, i progetti del PNRR per il sociale e le prime indicazioni sul piano aria regionale. Ci sarà poi anche la relazione sulle misure di sostegno al lavoro attivate nel triennio 2018-2020. Ma partiamo subito con Francesco Guccini e gli originali ritratti a lui dedicati in una mostra inaugurata proprio in Assemblea Legislativa. Vediamo il servizio. Il volto di Francesco Guccini raffigurato in 80 caricature realizzate da artisti di tutto il mondo, anche dell'Estremo Oriente. È la mostra, non so che viso avesse, allestita in Assemblea Legislativa inaugurata proprio dal musicista modenese. Sono bravissimi, sono stati bravissimi questi disegnatori. E la cosa curiosa è che vengono da tutto il mondo, anche dall'Estremo Oriente, anche dall'Estremo Nord. E quindi sono stati disegnatori bravissimi. La mostra, visitabile fino al 26 agosto, è curata da Gianandrea Bianchi di World Humors Awards. Guido De Maria, regista, autore televisivo e vignettista. E da Leonardo Canistra, autore della caricatura che ritrae Guccini nella locandina. Sul web, dove si confronta con altri caricaturisti, Canistra ha lanciato l'idea di raccogliere i ritratti di Guccini. Da quei ritratti è poi nata la mostra. Avere Francesco Guccini qui con noi è stato un grande regalo. Un cantautore, un artista, un poeta che ha insegnato a tante generazioni che è importante lottare, è importante la libertà e ce lo ha raccontato attraverso parole bellissime. In questa mostra ho tanta caricature che raccontano quella vita, quella storia. 80 caricature anche divertenti perché l'ironia è un tratto distintivo della storia di Francesco Guccini. Prima dell'inaugurazione, l'associazione culturale Lepidus ha consegnato ufficialmente al canto autore il premio Giovennino Guareschi nell'ambito del World Humor Awards 2022 per l'umorismo nella letteratura. E ora andiamo in Viale Aldomoro dove c'è per noi Margherita Giacchi. Nelle commissioni sta proseguendo il dibattito sul bilancio di assestamento sul DEFRE e sul rendiconto 2021 che verranno approvati nell'aula di fine mese. Ma sempre per quanto riguarda il capitolo delle spese, la Commissione Politica per la Salute ha approvato i bilanci regionali delle ASR. Tutte chiudono in pareggio nonostante le spese dovute al Covid. Si tratta di 793 milioni di euro tra emergenza e campagna vaccinale. In più il direttore regionale della Sanità, Luca Baldino, ha anche approfondito il tema delle visite specialistiche, persa nel 2020 proprio a causa della pandemia. Tutte ad oggi sono state recuperate, si tratta di 1,6 milioni di visite, così come sono stati recuperati i 70.000 interventi chirurgici. Ma approfondiamo il dibattito in commissione nel servizio di Gianfranco Salvatori. Si chiudono in pareggio i bilanci 2021 delle aziende sanitarie dell'Emilia Romagna. La Commissione Politica per la Salute ha approvato a maggioranza il consuntivo, che registra un anno complicato per la sanità, particolarmente gravato da spese straordinarie, dovute alla gestione della pandemia e della campagna vaccinale. Nell'anno 2020 è arrivato il Covid, è arrivata la pandemia, che noi eravamo in una situazione di grande sotto organico, sia negli ospedali che nella sanità territoriale. La Regione Emilia Romagna ha assunto più di 17.000 operatori della sanità, di cui 6.000 sono stati stabilizzati. E c'è stato un accantonamento significativo rispetto all'aumento di stipendio dei lavoratori della sanità, come previsto appunto dal contratto. Quindi si può sperare appunto di dare, di riconoscere agli operatori della sanità delle maggiori risorse. I dati sono stati presentati da Luca Baldino, direttore generale della sanità regionale. Critiche le opposizioni. Il pareggio di bilancio non è condizione sufficiente, hanno sottolineato, puntando il dito sulla gestione e sulla qualità delle risposte fornite. Quest'anno non c'è disavanzo economico, ma a nostro avviso c'è un disavanzo sociale, cioè in termini di prestazioni. Non ci sono stati riaperti i punti nasciti, meno punti di primo soccorso o pronto soccorso, riaperti come era stato promesso, e delle prestazioni diagnostiche o chirurgiche al di sotto dei termini di legge, anche per le prestazioni urgentissime. Quindi dobbiamo riformare il sistema sanitario per liberare delle risorse, perché non solo ci dobbiamo aspettare maggiori risorse da parte dello Stato centrale, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Superato lo scoglio del 2021, a preoccupare sono i costi dell'emergenza, che comportano spese straordinarie anche in questo 2022. Da più parte i consiglieri hanno sottolineato l'esigenza che sia il Governo farsi carico del già tangibile disavanzo creato dal Covid, richiesta più volte ribadita anche dall'assessore regionale Raffaele Donini, in sede di Conferenza Stato-Regioni. E ora torniamo a parlare di PNRR. Per valutare lo stato di attuazione del piano sul territorio emiliano-romagnolo, in Assemblea è stata convocata una seduta di lavoro del coordinamento tra le due commissioni referenti. Vediamo di che cosa si è trattato nel servizio. Prosegue in Assemblea legislativa il monitoraggio sui progetti da realizzare in Emilia-Romagna con i fondi del PNRR. Nell'ultima sessione di lavoro, il coordinamento delle due commissioni, bilancio e politiche economiche, ha dedicato un focus alle iniziative per l'inclusione e la coesione sociale, racchiuse nella cosiddetta missione 5. Su questa parte del PNRR, ha ricordato la vicepresidente Elly Schlein, per l'Emilia-Romagna ci sono complessivamente quasi 830 milioni di euro. Intanto si fa una valutazione sui primi progetti che riguardano in particolare il capitolo Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale. Prosegue in commissione il lavoro di monitoraggio sul PNRR. Oggi abbiamo fatto un focus sulla missione 5. 105 milioni di euro arriveranno in Emilia-Romagna in questa prima fase per finanziare 157 progetti presentati dai territori, per dare risposte al tema della casa e dell'housing sociale, dei minori, delle famiglie, delle persone con disabilità e delle fragilità, andando ulteriormente a potenziare la rete dei servizi, la rete di cura. Dopo i primi bandi pubblicati nei mesi scorsi, il 64,4% dei comuni ha almeno un progetto finanziato e la percentuale sale nelle aree più svantaggiate. Secondo la vicepresidente Schlein, i territori hanno risposto positivamente e il governo si è impegnato a reperire risorse aggiuntive rispetto a quelle iniziali per finanziare il maggior numero possibile di progetti. Oggi, di fronte al PNRR, noi abbiamo un compito fondamentale, quello di indirizzare e capire quali sono i territori che fanno fatica ad accedere ai bandi PNRR. Io credo che, soprattutto sulla missione 5, dopo il Covid, si parla di disabilità, si parla di abitazioni emergenziali, si parla di tutto quello che è la fragilità, sia fondamentale oggi guardare la realtà nel suo complesso e poi aiutare e sostenere chi dovrà partecipare ad altre missioni, perché la missione 5 non è finita. Ci sono grandi occasioni, bisogna prenderle tutte. Le risorse del PNRR a disposizione dell'Emilia Romagna ammontano complessivamente a 3,95 miliardi. Nel 43% dei casi i soggetti attuatori dei progetti sono i comuni. Stiamo proseguendo con il PNRR, con questo coordinamento, per capire e comprendere effettivamente quale rapporto ci sia tra i comuni, regione e stato sul PNRR. Ci sono tantissimi progetti che i comuni mandano alle regioni. Si incastra qualche meccanismo secondo cui non è ancora ben chiaro come vengono scelti i progetti, in che modo vengono finanziati. Quindi prosegue questa attività di ascolto, soprattutto per quanto riguarda gli assessorati, per comprendere quali lacune ci sono e come migliorare. Torniamo in collegamento con Margherita Giacchi, che è in Assemblea Legislativa. In Commissione Territorio, l'assessore all'ambiente Irene Priola ha presentato il Piano Area Integrato Regionale 2030, il cosiddetto PAIR. Un piano che può contare su investimenti pari a 148,6 milioni di euro e che prevede risorse per la mobilità sostenibile, come per le biciclette pedalate assistita. C'è poi una novità, che è il cofinanziamento a 75% di un abbonamento al trasporto pubblico locale per chi rottama un veicolo. Sono previsti poi 23 milioni di euro per le piste ciclabili e risorse per l'agricoltura. Ma non è mancato il dibattito in aula, in particolare i dubbi della Lega. Emiliano Occhi ha ricordato di considerare la crisi e la guerra in Ucraina e quindi il conseguente aumento del costo dell'energia. Mentre Michele Facci, anche lui della Lega, sottolinea come ci siano grandi opere, fra cui il passante metropolitano, per cui non esiste ancora uno studio sulla qualità dell'aria. Per Silvia Zamboni, di Europa Verde, si deve insistere sulle pompe di calore e sostituire le stufa a biomasse anche per ridurre le PM10. Andrea Costa, del Partito Democratico, sottolinea invece come in questo piano ci siano più incentivi che sanzioni. Su qualità dell'aria e autodiesel si è concentrata invece Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle. Sentiamo cosa ci ha detto. Con questo piano noi dobbiamo assolutamente rispondere all'infrazione a cui è sottoposto il nostro Paese per quanto riguarda i supermenti delle PM10 e questo ha un impatto sia sulle morti premature, lo sappiamo, ma anche sugli stravolgimenti climatici che sono sotto i nostri occhi tutti i giorni. La pianura padana ha un grave problema di qualità dell'aria. Serve intervenire sui settori più impattanti, penso a quello della mobilità, quindi l'autodiesel e l'agricoltura, con misure che siano strutturali, coordinate e integrate. Il difensore civico Carlotta Maru ha presentato in Commissione Parità la relazione sulla sua attività nel 2021, un'attività che vede confermata la collaborazione con l'Inps e con l'Università, con cui è stato portato avanti un importante studio sulla semplificazione nella pubblica amministrazione. Importante è anche la collaborazione con la consigliera regionale di parità, con cui è stato affrontato il tema della parità di genere nei vari ordini professionali, in particolare sulle disparità salariali e sulle difficoltà incontrate dalle donne durante la pandemia. Proprio la pandemia è stata al centro del lavoro del difensore civico nel 2021. Sentiamo cosa ci ha detto Carlotta Maru. Nel 2021 abbiamo ricevuto all'incirca 350 istanze aperte e concluse dai cittadini della regione, principalmente circa 70 istanze riguardano l'accesso agli atti, quindi il diritto dei cittadini ad avere documentazione inerente alle proprie posizioni da parte della pubblica amministrazione e da notare c'è stato un incremento abbondante di distanze per quanto riguarda la salute. Riguardanti il rilascio di Green Pass, le esenzioni delle vaccinazioni in situazioni particolari e anche la difficile situazione delle persone ricoverate in strutture sanitarie e la problematica dei rapporti con i familiari, quindi il diritto alle visite e non solo, anche il diritto alla comunicazione. Parliamo ora di promozione dell'occupazione e delle misure attuate in Emilia-Romagna nel periodo 2018-2020. Nel triennio in questione il profilo del mercato del lavoro regionale è stato fortemente caratterizzato dalla crisi innescata dall'epidemia di Covid-19. Uno shock che nel 2020 ha messo fine ad una lunga fase espansiva durata un decennio. Vediamo il servizio. In Commissione Cultura è stato fatto il punto sulla legge regionale per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro. Dalla relazione riferita al triennio 2018-2020 sono emersi indicatori significativi a partire dalla crescita delle persone che non cercano un'occupazione. Nel 2020 sono risultate 141.000, 13.000 in più rispetto al 2019. In diminuzione le richieste di personale gestite dai centri per l'impiego passate dalle oltre 13.000 del 2018 alle circa 6.000 del 2020. In calo anche le denunce di infortunio sul lavoro. Sono state oltre 85.000 nel 2018 e circa 68.000 nel 2020. Per Stefania Bondavalli della lista Bonaccini il patto per il lavoro e per il clima rinnovato nel 2020 ha arginato gli effetti negativi della pandemia. Un miliardo di ore di cassa integrazione e oltre un milione di lavoratori nella nostra regione coinvolti da ammortizzatori sociali. Queste sono alcune delle conseguenze nel 2020 della pandemia al centro della relazione di cui abbiamo discusso in commissione. Quello che dobbiamo dire è che prima il patto per il lavoro e poi la riproposizione nel 2020 del patto per il lavoro e per il clima sicuramente hanno contribuito ad arginare gli effetti negativi della pandemia. Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa ha sottolineato il valore del Fondo regionale per la disabilità. Ammonta nel corso dei tre anni in esame 18-19-20 a circa 40 milioni di euro. Questi soldi sono stati impiegati per portare tramite inserimento mirato dal punto di vista del lavoro persone con disabilità e sono stati utilizzati per la formazione delle persone disabili che così potessero acquisire le qualifiche necessarie per lavorare così tanto quanto per i tirocini o la prosecuzione delle attività e della formazione dell'altra formazione universitaria. Critico invece Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia che auspica un maggiore sostegno per gli enti privati che si occupano di formazione. Purtroppo noi vediamo ancora oggi una grandissima confusione in Regione Emilia Romagna proprio sulla formazione. Ci sono enti di qualità che di fatto non riescono a inserirsi nella formazione. Troppo spesso vengono lasciate ai comuni con tutto ciò che comporta l'organizzazione di questi temi e purtroppo oggi la richiesta di lavoro è enorme, basta vedere soprattutto in Romagna ma non solo rispetto ovviamente alla stagione estiva la incapacità di riuscire a trovare forza lavoro per svariati motivi non ultimo ovviamente il nefasto metadone di Stato del reddito di cittadinanza. Siamo alla termine della nostra puntata per rimanere informati seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu Grazie per essere stati con noi, arrivederci su queste frequenze. Grazie per la visione!